Borgo a Mozzano è iniziata la campagna elettorale. A correre per puntare al terzo mandato, dopo la modifica legislativa che ha tolto i limiti per i comuni sotto i 15.000 abitanti, c'è anche il sindaco uscente, Patrizio Andreucetti. Per ora, come sfidante, c'è l'esponente della Lega Cipriano Paolinelli, ma all'orizzonte pare profilarsi anche la candidatura di un altro ex primo cittadino, Francesco Poggi. Andreucetti ha così presentato l'avvio della sua campagna elettorale. Ci sono ottime sensazioni, abbiamo ottenuto la presentazione della mia candidatura il giovedì scorso, tanta partecipazione, adesso stiamo girando i territori con il viaggio Dicci la tua, che è un modo attraverso il quale incontriamo i cittadini in tutte le frazioni, ascoltiamo per costruire un programma che sia sempre più partecipato dalle persone. C'è tanta voglia di andare avanti, di proseguire i progetti che abbiamo iniziato, ma c'è anche tanta voglia di innovare e di fare in modo che tutto il nostro territorio possa crescere, una crescita armonica che mette al centro le scuole, la viabilità, la cultura, la sicurezza, l'attenzione al cittadino. Quando dico armonica, intendo sottolineare il fatto che ogni paese del nostro territorio deve avere la dignità di crescere, nessuno deve essere lasciato indietro, bisogna avere la capacità di proiettare nel domani tutta la nostra comunità.